Quella del responsabile della sostenibilità delle città è una figura che presto affiancherà gli amministratori locali, sindaco e assessori, dopo aver frequentato un corso sulla progettazione e la gestione di città e territori sostenibili della durata di 80 ore che partirà a Taranto il 17 marzo, rivolto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e agli stessi politici. Pianificazione strategica del territorio dunque quale unica scelta senza alternativa si deve guardare al progresso a 360 gradi e non soltanto in termini di PIL. L'alleanza italiana dello sviluppo sostenibile che io ho lanciato un anno fa e che oggi riunisce più di 140 soggetti delle parti sociali, del mondo imprenditoriale, dei sindacati e così via è proprio uno strumento per far sì che l'Italia adotti il concetto di sviluppo sostenibile come paradigma per un futuro a breve, a medio e lungo termine. Una città sostenibile quindi è una città che riesce a soddisfare, come si dice, i bisogni della generazione presente senza pregiudicare la possibilità per la generazione futura di fare altrettanto. Per Taranto questo è l'unico modo per andare avanti, ma non solo per Taranto. Taranto è la dimostrazione purtroppo di quanto la sostenibilità è stata poco presa in considerazione nel passato e quindi quando queste situazioni scoppiano ritrovare una via per uno sviluppo a medio termine è molto difficile. L'impegno anche in questo corso di alta formazione affinché soprattutto gli interventi che attraverso il CIS verranno ad attuarsi su Taranto trovino degli strumenti proprio di misura. Noi abbiamo bisogno di misurare gli interventi che vengono fatti, che tipo di impatto hanno sulla comunità locale. Noi dobbiamo pensare a trasformare le nostre imprese, a trasformare le nostre industrie affinché abbiano a produrre benessere e non situazioni come quelle che purtroppo nel passato abbiamo riscontrato. Sono tematiche estremamente importanti e sulle quali le città saranno chiamate comunque a rispondere, quindi è bene che ci sia qualcuno di preparato per rispondere. La città di Taranto non sempre ha risposto all'impegno del Politecnico, io ricordo di stare ancora aspettando la corsa dell'autobus che mi era stata promessa tre anni fa. Partner del progetto, la Camera di Commercio di Taranto, l'Università degli Studi di Bari, Confindustria Taranto e il Centro di Cultura Lazzati. Grazie a tutti.